Chiara Ferragni si prepara per un'inaugurazione di lusso nella sua sontuosa dimora a City Life, Milano. Ma c'è un dettaglio che sta facendo un gran parlare nei media. Benvenuti su News Mix Up, dove vi teniamo aggiornati in tempo reale. Chiara, la celebre influencer, ha condiviso dettagli esclusivi sulla sua nuova dimora, un superattico su due piani che diventerà la residenza principale della famiglia Ferragnes tra poche settimane. In questa nuova avventura, c'è un nome che sembra mancare all'appello, Fedez. Mentre Chiara documenta con orgoglio i progressi dei lavori sulla casa, il marito, Federico Leonardo Lucia, noto come Fedez, sembra completamente assente. Dopo un primo sopralluogo condiviso sui social a marzo e una visita al cantiere a luglio. La coppia sembra non mostrarsi più insieme nel condominio di City Life. Questo ha sollevato domande tra i fan, sarà Federico pronto a fare le valigie, la nuova dimora si preannuncia più grande dell'attuale e offre spazio sufficiente per la famiglia, compresi Leone e Vittoria, con le loro nuove camerette e servizi che stanno prendendo forma. La stanza da bagno della secondogenita è in rosa, mentre quella del fratello è in fase di completamento. La dimora includerà anche una terrazza, una moderna sala living, armadi a parete e ogni comfort immaginabile, persino una piscina condominiale. Non sorprende che anche la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini stia pianificando il trasloco nello stesso complesso. Tuttavia, non tutto è idilliaco in casa Ferragnez. Dopo aver condiviso le emozioni legate alla sua partecipazione a Sanremo e alla crisi con Fedez, Chiara si trova ora a gestire i capricci della figlia Vittoria, che ha solo due anni e mezzo. Nonostante i primi giorni di scuola e asilo sembrassero andare bene, la piccola Vittoria ha recentemente iniziato a piangere e cercare disperatamente la mamma e la tata. Chiara è sconcertata da questa in attesa trasformazione e si rivolge ai fan per chiedere aiuto.